Sant'Anna di Stazzema Circa un migliaio di sfollati, in cerca di rifugio dalla battaglia e dai bombardamenti che imperversavano sulla costa versiliese. Case, stalle, fienili. Ogni luogo vedeva uomini e donne accolti dagli abitanti del paese, nonostante la scarsità di cibo e di risorse. La serenità di quel posto fra i monti faceva sperare di essere al sicuro. Invece, la mattina del 12 agosto del 1944, proprio a Sant'Anna, si consumò uno dei più atroci crimini commessi durante la Seconda Guerra Mondiale, ai danni della popolazione civile. Verso le sette di mattina, tre compagnie di soldati tedeschi, appartenenti al secondo battaglione del 35esimo reggimento della sedicesima divisione corazzata Reichsführer SS, giunsero in cima alla vallata di Sant'Anna, dall'alto, da tre diverse direzioni. Una quarta squadra salì da Val di Castello, per bloccare il sentiero che veniva dal basso. Duecento soldati armati di mitragliatrici e lanciafiamme circondarono il paese, attuando un preciso rastrellamento a Tenaglia per impedire ogni fuga. Razzi luminosi solcarono il cielo da più direzioni, illuminando le vette dei monti. Erano i segnali che dettano il via alle operazioni e misero in allarme la popolazione. Gli uomini fuggirono nei boschi, convinti che si trattasse di un rastrellamento. Vecchi donne e bambini rimasero nelle loro abitazioni, sicuri di non avere nulla da temere. Invece, nel giro di poche ore, centinaia di corpi rimasero a terra, senza vita, bruciati, straziati, offesi. Le testimonianze dei superstiti, soprattutto quelle dei bambini, che assistettero allo sterminio di familiari e amici, sono drammatiche. Nelle borgate, i militari rastrellarono gli abitanti. Li spinsero nelle stalle o nelle cucine. Lanciarono bombe a mano dalle finestre e spararono all'interno con mitragliatrici. Appiccarono il fuoco per distruggere e cancellare tutto, corpi, case, stalle, animali. Oltre 130 persone furono radunate sulla piazza della chiesa e qui sterminate a colpi di mitragliatrice. I corpi, accatastati l'uno sull'altro, coperti poi dalle paratie della chiesa, furono bruciati, rendendo difficile il riconoscimento e il conteggio delle vittime. Prima di mezzogiorno tutto era finito. Le pattuglie si diressero verso Val di Castello. A Sant'Anna rimase il silenzio, rotto dalle grida e dai lamenti dei sopravvissuti. Le fiamme e il fumo nero si sparsero nella vallata e ancora più giù, fino al litorale, annunciando il dramma in tutta la Versilia. Quel mattino d'agosto a Sant'Anna i tedeschi uccisero i nonni e le madri, i figli e i nipoti, i baesani e gli sfollati. Uccisero Anna, l'ultima nata di appena venti giorni. Uccisero Evelina, che quel mattino aveva le doglie del parto. Uccisero Jenny, la giovane madre che, prima di morire per difendere il suo piccolo Mario, scagliò il suo zoccolo in faccia al nazista che stava per spararle. Uccisero il prete Innocenzo, che implorava i soldati di risparmiare la sua gente sulla piazza. Uccisero gli otto fratellini Tucci, con la loro mamma. Morirono così oltre 500 innocenti, indifesi, senza responsabilità, senza colpa. Il massacro venne compiuto dalle SS, guidate però lungo i sentieri da individui col volto coperto, persone pratiche dei luoghi. Alcune parlavano il dialetto versiliese. Erano fascisti del posto, collaborazionisti, italiani, arruolati nelle SS. La strage di Sant'Anna desta ancora oggi un senso di sgomento e di profonda desolazione civile e morale, poiché rappresenta una delle pagine più brutali della storia del nazismo. Un oltraggio ai danni della dignità umana. Quel giorno, l'uomo decise di negare se stesso, di rinunciare alla difesa e al rispetto della persona e dei diritti in essa radicati. Le oltre 500 vittime costituiscono ancora oggi una testimonianza dolorosa degli effetti aberranti delle ideologie, dei totalitarismi e dei razzismi. Grazie a tutti.